Siamo andati alla ricerca delle macchine più mostruose del mondo, dagli attrezzi per la compattazione del terreno fino al frantumatone. Questi strumenti sono stati creati per un solo scopo, distruggere qualsiasi cosa incontrino sul loro cammino, senza pietà. Il loro compito è demolire. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS